Calato il sipario sull'edizione 2012, si lavora per il Bifest 2013, già sostenuto dalle migliaia di spettatori che hanno affollato le sale cinematografiche baresi nel corso del festival appena conclusosi e che porterà con sé tutto Fellini, la più completa retrospettiva mai dedicata. Sabato sera un grande pubblico nello splendido Teatro Petruzzelli ha celebrato in un gran finale i vincitori e i partecipanti della quarta edizione del Bar International Film Festival che ha saputo raccontare in una settimana intensissima di eventi storie di grande attualità, dalla crisi economica all'immigrazione all'integrazione. Due vincitori per tutti, Emanuele Crialese per Terraferma e Andrea Segre per Io sono lì, due volti giovani del cinema italiano. A testimonianza del senso di questa manifestazione che ai margini della mondanità da red carpet vanta numeri straordinari di partecipazione. 50.000 presenze complessive che hanno gremito oltre la capienza di sala tutte le proiezioni e gli eventi concomitanti. Primo fra tutti la rassegna Tutto Carmelo Bene dedicata al grande attore ed autore salentino. Un plauso dunque al grande pubblico e alla città di Bari che insieme hanno confermato, se ce ne fosse stato bisogno, l'esigenza e la volontà di tenerselo per davvero questo festival. Super bene, si può dire, non è garbatissimo, non si possono cantare le lodi della propria amministrazione, però un successo strepitoso di pubblico, di partecipazione, di grandi cineasti, di entusiasmo collettivo e di grande cultura. La cosa impressionante di questo festival è il pubblico, è organizzato benissimo tutto il festival ma il pubblico è veramente eccezionale. Ormai sono un po' pugliese, come si sa, no io anzi sono arrivata, ho registrato ieri la puntata del programma che va il sabato sera sulla sette, quindi sono in conflitto di interessi, sono al teatro Petruzzelli e in televisione, però ci tenevo tantissimo per cui ho fatto di tutto per esserci, perché è una parte che questo teatro è meraviglioso, non c'ero mai venuta a vederlo così, è un sogno. Questo teatro per me è una cosa incredibile, è fantastico, è una cosa... viva l'Italia! Per noi è un volo verso il futuro, il cinema attira il turismo, il cinema è ricchezza economica e il cinema è anche cibo dello spirito, io sono molto felice, è un grande successo culturale ed economico.